Siamo qui con il protagonista dell'incontro, con il protagonista principale diciamo perché ci sono anche stati tanti personaggi che hanno partecipato a questo grande match tra voi e Oderso. Alla fine però una tua prodezza grazie anche al rimbalzo in attacco di Carlo De Petris a chiudere l'incontro, a darvi l'epilogo positivo del match. Certamente è una partita tosta direi, l'abbiamo controllata secondo me dal primo al 35esimo minuto, poi Oderso è una squadra molto esperta, l'ha buttata anche un po' sui nervi in bagarre con una zona un po' ostica sfidandoci un po' al tiro nei primi secondi. L'abbiamo perso un po' il nostro ritmo, le nostre certezze, loro hanno trovato un paio di canestre e soprattutto sono andati in lunetta con tanta felicità trovando canestri facili. Arrivando punto a punto nel finale dove si sa decidono i dettagli. De Min che ha tirato malamente questa sera dall'arco è un giocatore che quando conta la mette e infatti ha segnato per più uno. Nell'ultimo attacco ci ho provato per la prima volta sbagliando, per fortuna siamo una suora di Leone, De Petris si è buttato su quella palla, me l'ha gettata fuori, all'ultimo secondo ho tirato e è andata dentro. Ma secondo me vittoria comunque è meritata perché meritavamo più noi di Oderso. Si è meritata perché l'avete condotta quasi per tutto l'arco del match. Raggiungete proprio Oderso in classifica nuove ambizioni per voi vuole dire forse questa vittoria? Certamente era un scontro di alta classifica, si è visto secondo me un buon basket a tratti, queste saranno le sfide che vedremo nel post season appunto, partita da playoff. Speriamo di racimulare più punti possibili, abbiamo vinto contro una diretta avversaria che è Jesu la settimana scorsa in trasferta, oggi in casa abbiamo trovato regolarità anche con Oderso, adesso ci aspetta Arzignano. Diciamo che non voglio dire una frase banale ma guardiamo partita per partita per arrivare nel miglior modo possibile preparati sia fisicamente che mentalmente ai playoff e le vittorie ovviamente aiutano. Siamo qui con Coach Steffè della Colorflex Oderso, una partita sfortunata alla fine, avete tenuto botta, non avete mollato mai nonostante avevate gli uomini contati, poi la prudezza di Ban ha fatto sì che avete perso anche questa partita. Sai se uno non la vivesse direbbe il bello era poi a Canestro, vivendola un po' più dura così, devo dire che però bisogna anche fare Canestro quindi Ban è stato bravo a fare Canestro, nel senso che bisogna dare merito a chi merita. Io ti dico per noi è un momento difficile dove ci mancano due o tre giocatori, comunque la squadra ha reagito bene, hanno lottato, hanno fatto in questo momento di difficoltà, hanno fatto una partita vera e si sono meritati gli applausi anche di chi ci ha seguito. Io personalmente sono tornato a casa mia perché io sono triestino quindi rivedere un po' tutti da Boris Vitez a tutti gli amici mi ha fatto piacere anche perché adoro queste persone che hanno iniziato a fare basket quando io ero piccolo, rivederle tutti qua mi ha emozionato. Cosa ci vuole per uscire da questo momento difficile? Sono sicuro che lo passerete, l'avete dimostrato anche questa sera, non mollando mai anche quando eravate a meno 14. Ci vuole questo tipo di mentalità, recuperare qualche giocatore, non trovare alibi ma trovare sempre le cose che si possono fare realmente, non scuse ma cose che io partendo da me, da ogni giocatore che si può fare in campo realmente.